ciao a tutti bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su merchant of the skies un gioco che è uscito ad aprile che ho qua in lista steam da un bel po è un gioco in pixel grafica che sembra essere veramente interessante perché si chiama mercante dei cieli dove noi andremo con la nostra nave volante il nostro zeppelin come volete chiamarlo a commerciare nei cieli anche a espandere una nostra attività commerciale vi dicevo uscito ad aprile 2020 e costa 14 99 purtroppo poi io qua butto sempre in ironia poi giochiamo come viene inglese francese tedesco polacco spagnolo cinese e thailandese ma lo dico per buttare un po benzina sul fuoco perché mi piace che poi in realtà lo giochiamo così come viene e ricordatevi è sempre l'applicazione che vi ho consigliato tap translator application che può essere interessante calcolando che comunque un po di pausa per tradurre c'è ciao mio caro non hai visto non ti ho visto per decenni sono contento che tu abbia deciso di tornare a casa tua che sorpresa vedo che tu hai la tua nave è buono la nostra famiglia non è così diciamo salute benestante come prima assicurati di ricaricarla con l'energia delle tempeste prima di decollare grazie zio siamo un po tutti arrabbeggianti qua va bene quindi main objective objective recharge the ship quindi ricarichiamo la nave intanto qua vediamo che abbiamo la quick navigation perchè siamo attaccati qui quindi il tutorial non ci aiuta però vedete che qua ci sono dei recharge station qua siamo attaccati qua possiamo vedere il post office qui è un riassunto delle zone trade post la recharge station e poi abbiamo la shipwright dove possiamo andare a acquistare navi nuove allora recharge station ricarica per 3 gold ricarica a metà no non mi conviene ricaricarlo del tutto quindi ricarichiamo buono come sapevi fare insomma sono il capo dell'ufficio postale locale e del giornale e apprezzerei davvero se tu potessi aiutarmi con questa lettera urgente di sicuro ti pago insomma sì quindi premiamo sul post office e deliver delivery task per favore consegna questa lettera al mio amico il guild master ash va bene la mandi ci dà 100 gold e ci dà quest'altra cosa accettiamo ma firmiamo l'ordine va bene fin quando non vai a lanciare perché non acquisti un po di legna altri post potrai vendere dove farci anche del profitto grazie beh poi se non sappiamo dove il trade post è qua però in realtà dovrebbe essere questo infatti alla bay reduce tax ma ci costa tre di queste cose qui che sembrano delle come ma in realtà sono biglietti vabbè qua possiamo ridurre le tasse del 15 per cento ma ci servono tra di questa valuta qui che non abbiamo ne guadagneremo uno al termine di questa trattativa di questa consegna della lettera ora acquistiamo vedete che possiamo acquistare la mia nave al momento la batteria carica di tempeste di energia di tempeste quindi voglio acquistare il legname lo acquistiamo ne acquistiamo 10 che è tutto e qua possiamo invece trascinare e vendere quindi in questo caso acquistiamo qua vedete che cosa acquist che cosa vendono scusate 24 per cento di tasse in italia peggio che peggio va bene stanno caricando la nave sei pronto non aspettare e vola l'anshire ok e mi barca insomma e si parte come si parte questo cos'è intanto lo stiamo esplorando insieme questo gioco quindi qua abbiamo la nostra attuale il nostro attuale equipaggio 2 ottimo ottimale è 2 massimo 4 va bene intanto qua sotto vediamo skill and perks la pausa i pezzi conosciuti quello che conosciamo al momento delle varie merci abbiamo il journal che è al diario insomma con le missioni che abbiamo da fare e il viaggio per visitare altre isole visita isole ok dobbiamo andare al land cosa qua al land shire che sulla mappa non lo vedo ma presumo sia quel punto esclamativo lì quindi con il tasto vasta viaggiamo e viaggiamo nei cieli abbiamo lightburi ravenport ma direi che qui land shire e visit isle ok voliamo nei cieli e arriviamo qua siamo nel tutorial ma lo stiamo esplorando insieme perché comunque può essere un gioco carino simpatico insomma poi valutate voi se 15 euro li vale o se aspettare uno sconto insomma benvenuto al land shire ancora lo zio anche qui visita la gilda per inviare la mia la nostra lettera grazie zio se noi risprimiamo solo grazie zio allora trade guild andiamo la trade guild presumo qua in più c'è una casa vabbè adesso vediamo trade guild e qua ci dà il compito hai detto che una lettera per me si all'amica mica l'amico ma friend davvero non hanno maschile femminili in inglese quindi grazie per la tua e lettera puoi visitare ogni ufficio di gilda da ora se avrai bisogno di lavoro extra ci vediamo ash buon lavoro bel lavoro completa i compiti e guadagna reputazione e lentamente accumula wealth ricchezza vai e vendi legno che hai acquistato per fare profitto allora andiamo al trade post buy or sell e vendo 8 prezzo medio no ce lo valutano 15 qui quindi io lo vendo abbiamo speso già così abbiamo siamo in attivo e abbiamo condannato un bel botto però grazie al tuo aiuto sono andrò a stare qui per alcuni affari ma non esitare visitarmi al post office più tardi grazie zio ho tenuto questa cosa per te è duduk una nostra reliquia di famiglia alcune persone dicono che è appartenuta a grietta non sono sicuro che sia la verità ma tienila grazie amazing bellissimo è un flauto va bene ce l'ho che qua 10 di energia abbiamo ancora tutta l'energia non abbiamo speso niente voglio dare un'occhiata qua se c'è qualcosa recharge station 12 min che costa un botto ricaricare la nave qui no direi di no almeno non riesco a capire quanta nave ho ma quante quanti soldi ho allora 291 no non riesco a capire quanta benzina ho vabbè comunque trade post vediamo se abbiamo qualcosa che possiamo comprare possiamo comprare un sacco di roba gemme costano un botto le gemme però qua però ci sono meno tasse di 24 per cento qua 17 io direi di provare a comprare della pietra che non la vedevo dall'altra parte compriamo la pietra compriamo delle gemme abbiamo speso 500 che non abbiamo quindi direi di no compriamo anche della sabbia io spendo 102 vendiamo sa sabbia e pietra e proviamo a tornare indietro vediamo se riusciamo spendiamo un po di più a dire la verità trading cam e vorrei acquistare grazie ok abbiamo acquistato abbiamo riempito la nave voglio vedere che cos'è questa casa ok assumi una persona due persone per 16 gol una persona per otto e prendi un turista a bordo praticamente dobbiamo portarla in un luogo e fargli visitare no declino al momento perché poi quello che potremmo fare se non ricordo male è costruire anche degli edifici di produzione aggiorna la nave vedete che abbiamo uno slot solo quindi al momento non possiamo fare granché trasporta ora to south peak island vabbè la trasportiamo a south peak ciao ivo va bene lo farò ti porto la va bene allora sappiamo direi di sì skill o interessante perché a salire di livello si vanno sbloccare queste cose per diciamo ammaestrare i venti insomma dominare i venti insomma per viaggiare più velocemente viaggiamo dobbiamo andare a a vedete qua e ci dice le merci che ci sono ci costa 4 vabbè non mi ricordo dove del journal dobbiamo andare a south peak south peak che non conosco cioè non non so dove sia south peak quindi esploriamo un pochino a qua vedete che ora l'energia l'energia 1 e 1 minchia ben finito l'energia quindi mi tocca fermarmi qua ci fermiamo al majestic e facciamo il rifornimento sì ma il problema è che qua non c'è niente c'è la carota sono così solo bisogno di musica nella mia vita ma nessuno canta con me posso cantare il momento trash si devo cantare star singing mi è vero il flauto me devo ma che ginalata rosso blu giallo rosso rosso blu giallo rosso rosso blu giallo rosso rosso blu a ci stiamo facendo amica la carota insomma detta così non è che suoni proprio benissimo però vorrei continua tre giorni tre giorni ok ok si fa molto interessante perché adesso possiamo cantare con la carota va bene riusciamo arrivare al library prima di finire l'energia sì forse ce la facciamo eh sì la visito adesso library e speriamo di riuscire a fare no è vero va a batterie quindi abbiamo diverse batterie ah ok ho capito stiamo imparando insieme allora qua ci il gioco ci dice che possiamo anche acquistare un'isola e amministrarla premendo il bottone sul pannello destra in basso destra acquistare un'isola e amministrarla posso comprare un'isola per chase island 1050 no non posso vabbè qua non c'è niente però possiamo ah no 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 allora in pratica quello che non ho capito e mi scuso ma lo stiamo esplorando insomma spendiamo ogni volta che completiamo finiamo questa batteria e ce ne consuma una quindi ne abbiamo ancora un po riusciamo a viaggiare ancora un po tranquillamente quindi vado abbastanza tranquillamente a iron view anzi magari do anche un'occhettina cosa c'è qua sotto al pic ok qua ci dice che prendiamo due a due batterie alla volta facciamo fuori ok perfetto vabbè intanto torniamo qui e vediamo se riusciamo andare in attivo per quanto riguarda il il guadagno andiamo al trade posta vendi e ci sono voto di tasse qua però avevamo speso 100 e 102 forse non l'acquistano vabbè vendo la pietra e già qui abbiamo recuperato quasi tutto vende anche delle gname 82 bene abbiamo fatto un po di poi sale anche l'esperienza con la fiducia insomma con con gli altri ricarica per due gold costa veramente una stupidata ricaricare energia quindi mi sta bene dobbiamo però andare a south peak e south peak dove cacchio è? dobbiamo aspettare tre giorni per poter andare a cantare con la carota cloud hold qua visitare l'andham stonshire oh ok è finita la settimana quindi il salario della caio dobbiamo pagarla e le paghiamo ma qua mi sta indicando qualcosa c'è una freccia che mi dice dove andare quindi probabilmente mi sono perso io il punto dove andare possibile si chiamava south peak quindi sembrerebbe quasi abbiamo finito l'energia torno alla città più vicina spendendo tra l'altro anche una barca di soldi vabbè intanto siamo qui facciamo un acquisto no non voglio prendere persone voglio al recharge station sti cazzi costa un botto l'energia qua vabbè ripartiamo continuiamo a seguire questo segnale qui che probabilmente ci porta anche al punto giusto infatti era lì io babbano siamo rallentati a causa delle tempeste south peak eccolo qua south peak me l'aspettavo sud però va bene siamo arrivati dobbiamo allora dobbiamo andare a portare new target post ok trasporta ora to south peak ok dobbiamo trasportarla maduro ora workshop ok la trasportiamo lì ok grazie risorse puoi portare ok ha bisogno di cosa adesso build ok dobbiamo costruire il suo outpost ci serve 20 di leniamo e 8 di pietra quindi molto bene dobbiamo aiutarla a costruire quindi stiamo facendo tutt'altro che comprare magari la nostra isola personale comunque trade guild non mi interessa ci danno incarichi trade post vorrei vendere la sabbia la compra e la sabbia che mi mette no non interessa acquistare questa roba vabbè allora pietra 20 di pietra no 20 di di legno e 8 di pietra vediamo se la vendono qui apple groove che cacchio succede qua apple groove scout for resource possiamo farlo una volta sola vediamo cosa troviamo ok i nostri due membri della caribou ci portano delle mele che mele secondo me possono essere interessanti per avviare il nostro impero abbiamo anche delle niamme stiamo facendo mele su mele qua è finito possiamo farlo ancora ha bisogno di un cestino ah per farlo manualmente ok il gioco io vi dico mi incuriosiva ma dopo averlo provato adesso mi incuriosisce ancora di più ma molto di più abbiamo finito l'energia 29 denari veniamo trainati alla prossima città landshire sto gestendo veramente malissimo l'energia comunque vabbè recharge station una badilata costa mamma mia vabbè fammi comprare questo trade post fammi comprare la legna ok 20 di legname e 8 di pietra vediamo se riusciamo la sabbia me la compri sì grazie ok allora dobbiamo comprare 8 di pietra e ce ne manca 1 va bene e ci mancano 18 di legname quindi 18 di legname posso venderla questa ah no 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 niente vendo le miele non ti interessano va bene dai compro questo intanto ah non ho abbastanza soldi quindi devo eh vendo le miele no le miele non le vuole vendimi una pietra in meno dai vai e niente dobbiamo per forza fare qualcosa dobbiamo fare acquistare cioè prendere dei compiti quindi trade guild eh check mail box ci sono ah ok la carota sta diventando la nostra amica prendiamo un incarico invia questa lettera eh all'island ci pagano 144 lo facciamo così almeno andiamo dove dobbiamo andare allora ehm lì ho la southpick no e devo andare di là mi spiace ehm library si paghiamo i salari ah ci hanno pagato eh sei andato in bancarotta ma la banca ha accordato di darti dei soldi per 3000 gold se andrà in bancarotta ancora perderà il gioco ok abbiamo iniziato molto male però c'è qualcosa qua da estrarre quindi ah richiede il modulo crane va bene dai la banca ci ha dato fiducia e noi ripagheremo la banca quindi andiamo ad acquistare altro legname ce ne mancano la no la mia ship no non voglio vendere il legname voglio comprare me ne servono 20 di legname e eh due di pietra ancora mi compri le mele non mi compri le mele però ti compro le foglie del tè perché almeno le mh è un rischio però comprarle io andrei in modo molto molto più oculato va bene eh ripartiamo facciamo beh oddio facciamo magari il pieno ritorno qui facciamo il pieno che costa una stupidata e ripartiamo ok e andiamo a fare questa cosa così almeno guadagniamo due soldi magari qua abbiamo modo di acquistare qualcosa eh visita l'isola e vediamo banca ah no qua c'è la banca ripaga 73 gold ah ok la ripago dai grazie banca basta non dobbiamo fare altro qui vabbè siamo dei buoni e no guarda qua sotto qua sotto l'isola perché ci serve il modulo proprio per raccogliere quel quei loot diciamo lì in mezzo allora trade post buy or sell vendi le mele perfetto compra 4 di legname e siamo a posto quanto mi costa l'energia qui recharge station paga 15 gold e non se ne parla più ship workshop abbiamo upgrade ship scegli un modulo ah bellissimo possiamo mettere il cestino l'aeron pickaxe il crane per poter raccogliere le casse che troviamo in giro ci costa un tot beh ve lo faccio vedere giusto così per quello che possiamo fare per trasportare acqua qua per avvestare diciamo i campi scavare navigazione più veloce i picconi insomma per poter fare un po' di cose allora abbiamo anche l'albergo l'in possiamo portare pane apple joys e la figata è che poi ci possiamo mettere in produzione quindi produrre le nostre cose grazie alle isole che acquistiamo e gli edifici che compriamo adesso io voglio dare un'occhiata non abbiamo energia devo ricaricare energia qua beh e ad iron view costa veramente una stupidata quindi la compro recharge station ricarica ma non mi compra più i moduli però cioè quelle batterie supplementari trade post no vabbè ripartiamo dai ce la faremo ad arrivare su ravenport è un altro posto perché poi c'è questo affare qua che è il consumo vedete che ce la facciamo ad arrivare lì south peak ok dai completiamo il workshop almeno arriviamo a una oras workshop build ok lo costruiamo l'abbiamo costruito ci hanno dato dei soldi si è diventato più conosciuto la conoscenza dei giganti insomma eccolo che era ci hai veramente salvato evo ha anche detto che puoi visitare il suo workshop e prendere un modulo gratis come riconoscimento ho trovato qualcosa mentre preparavo il workshop la costruzione del workshop io vi ho detto che è inutile ma forse tu potresti trovarlo utile amazing che cazzo è vabbè deliver letter vabbè questo è uno abbiamo anche altre cose qua gli obiettivi le lettere ricevute gli item speciali che abbiamo trovato sembra essere molto ma molto ma molto promettente trade post riduci le tasse vediamo se possiamo comprare qualcosa io comprei delle germe no rainbow flower il cacchio non lo so perché allora il giornale diceva il giornale diceva di portare questa lettera la però diceva che possiamo prendere un modulo gratis ma non qua probabilmente da un'altra parte mi sto facendo prendere veramente bene 77 gold perché siamo rimasti senza energia qua ci dà uno stima di quello che è il valore dei vari oggetti molto costoso molto costoso molto costoso ci ributta di là perché abbiamo finito il carburante quindi ci siamo fatti trainare per l'ennesima volta spendendo 75 monete 77 monete anzi in più paghiamo 26 di stipendi quindi ci avviciniamo verso la fine del gioco va bene vediamo adesso qua se possiamo ship workshop ha detto che ci dava un aggiornamento della nave gratis vediamo se ce lo danno ovunque io prenderei questo install crane si vedete che è gratis si l'ho installato ok poi dovremo prendere una nave nuova adesso acquistiamo l'energia e poi recharge station e poi io proverei costa un botto ma questo mi pare l'ho già detto voglio provare questo questo gancio insomma il gancio per raccogliere le casse che troviamo in giro però al momento qua non ce ne sono è pieno di isole eccole qua estrai adesso clicco estrai ok stiamo estraendo usando il gancio che poi si danneggia anche ok stiamo prendendo casse è questo vabbè ship storage stiamo prendendo mele stai ok abbiamo preso un po' di mele andiamo qua e vediamo che cosa c'è su quest'isola vediamo se effettivamente si in effetti è sconosciuto fin quando non ci andiamo e qua troviamo un trade post e un recharge station che costa veramente troppo ma energia non ne abbiamo più al trade post magari riusciamo a fare una vendita di mele comprate mele no non comprate mele vabbè vabbè ragazzi il gioco sembra essere davvero davvero molto molto figo davvero merchant of the skies 1499 l'ho iniziato un po' scettico anche se in realtà mi l'ho già informato piuttosto bene sul gioco ma provandolo devo dire che è veramente un'autentica sorpresa 1499 li vale secondo me se vi piace il genere sì perché in quel poco che ho visto in questa mezz'oretta mi è piaciuto veramente tanto quindi non penso che ci siano nemici e cose del genere almeno credo non subito però sembra essere un gioco abbastanza pacifico di commerci di guadagni guidati comunque da una storia quindi ora non vedo l'ora di sapere i vostri pareri qua sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao